E' tanta voglia per tutti ragazzi, io sono Ferrix e come ogni domenica siamo qui, siamo qui, siamo qui con le vostre fantastiche clip. Anche questa settimana clip potentissime, veramente molto molto belle e vi invito però ragazzi a diversificare le clip che vi mandate perché io capisco che è uscito Black Ops 3 ma mandatemi tantissimi clip di tutti i giochi, vanno bene qualsiasi gioco per qualsiasi dispositivo, quindi console, playstation, xbox, computer, cellulare eccetera eccetera eccetera. Andiamo a vedere subito la quinta posizione potentissima di questa settimana. In quinta posizione abbiamo Orevzi che fa il record del long shot più lungo su Wanya, 1674 metri. Ragazzi so perfettamente che in altre classifiche neanche entrerebbe ma questo è il long shot più lungo su Wanya e quindi nei commenti non vi distruggete. Quarta posizione Arkham 94 ancora su Battlefield e ragazzi fa qualcosa di incredibile. Io non so come ha fatto a vedere queste due persone e come ha fatto ad ucciderle con questa nebbia. Veramente complimentoni ad Arkham per queste due kill fantastiche. In terza posizione è Counter Strike e c'è Metis a Killer. Ragazzi questa posizione l'ho spostata io perché sarebbe stata quinta ma io ho deciso di metterla almeno terza perché signori fa veramente qualcosa di incredibile. Fa un ace quindi uccide tutto quanto il team nemico e soprattutto lo fa con la Glock che su Counter Strike è una pistolaccia. Quindi secondo me merita la terza posizione e quindi io l'ho data di diritto. In seconda posizione c'è Manny che ci porta su Black Ops 3. È con la specialista dello sparo quindi arco e frecce e inizia a disintegrare tutti quante le persone che gli si parano davanti. È veramente una furia omicida, è veramente bravissima anche perché con l'arco non è proprio estremamente facile fare tutte queste kill. In prima posizione ragazzi, Noise ZN. Avrà fatto Spawn Trap, avrà fatto quello che vuole ragazzi, ma dopo che sblocca il Reaper fa qualcosa di eclatante. E full team sbraga tutti quanti, uccide qualsiasi cosa, gli si para davanti. È una macchina da guerra assassina. Veramente bravissimo Noise a sfruttare lo Spawn Trap come volete voi, i nemici che vanno tutti quanti lì, ma veramente una serie di uccisioni clamorosa. Bene ragazzi, anche questa Top 5 finisce qui. Feryx vi saluta e noi ci vediamo ovviamente domenica prossima con le Top 5 e durante la settimana con tutti gli altri video del canale. Ciao a tutti!